Gianna e Luca Gianna Martorella e Luca Pitteri Come mai qua a Piombino? Io ci sto Ah ci sta Sì, lui l'ho invitato oggi È in transito oggi Perché tiene un corso di canto con i ragazzi delle Muse Perché noi siamo alle Muse Adesso poi lo spiegheremo Posso passarti di fianco così lo salutiamo un attimo? Allora, com'è? Molto bene Sei contento di essere qua al mare? Sì, non lo vedrò neanche di striscio Di striscio sì, ma sono qui peraltro molto piacevolmente Senti, ho visto un sacco di ragazzi dietro Qualcuno già si intravede Sì, sì Quindi oggi? Sono lì, pare che abbiano paura che li metta i voti Non ne ho nessuna intenzione Va bene, oggi farai uno stage qui Allora, questo è il primo incontro di una serie di incontri Che durano fino a giugno Sono incontri che non si può più definire stage Ci sono proprio delle lezioni che abbiamo preferito dare un taglio assolutamente individuale Piuttosto che questi stage, questi masterclass collettivi Perché secondo me la bontà didattica alla lunga è maggiore Quindi è il primo di sei, mi pare, incontri Senti, mi posso iscrivere anch'io? O sono di troppo? Parli con l'organizzatore Con l'organizzatore Va bene, dai Volendo Volendo si può fare Dai, allora lo rivediamo Salutiamo un attimo Luca Auguriamo buona giornata di lavoro E ci rivediamo tra poco Grazie Allora ecco i ragazzi che sono gli allievi qui delle Muse da Gianna Martorella qui a Piombino Fate un bel sorriso ragazzi, fate vedere i vostri denti Vai, vai, guarda, guarda Inquadra lei, inquadra lei Angelo, vieni, avvicinati, avvicinati Fai un bel sorriso? No Sono timidi, dai Allora, siete pronti per Ah, tu da dove arrivi? Da Pavia Ah, da Pavia Quindi non solo da Piombino Addirittura, vedi Perché è internazionale Gianna Martorella è internazionale Le Muse è conosciuta ormai in tutta Italia Pomarance Dove si trova Pomarance? Provincia di Pisa Ha fatto tanta strada lui Va bene, va bene Allora siete pronti? Oggi avete un maestro straordinario Volete fare un applauso al vostro maestro Luca Pitteri? Lo vedremo alla fine Va bene, dice lo vedremo alla fine Servete abbastanza energie Va bene Allora In bocca al lupo E salutate tutti Viva le Muse Viva le Muse E diciamo anche E viva Gianna Martorella Uno, due, tre E viva Gianna Martorella Ciao Allora sono emozionatissimo Sono con Gianna Martorella Senti guarda Per uno come me È un onore stare vicino a te Lo potevo dire Ma grazie No no ma Ma anche per me è un onore Devo dire che anche i ragazzi che ho visto Di cui parleremo adesso Sono tutti emozionati Soprattutto i genitori Perché Per noi tu sei Un idolo Beh quante risate ci hai fatto fare Dai Sì Immagino Ricordiamo 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 Gianna Martorella È l'originale tra l'altro Non la limitazione L'originale è lei Poi c'è anche Raffaella Carrara Che vabbè È nata attraverso lei Molto bene Buonasera a tutti Con Pino Lignoso Sono veramente molto felice Di essere qui E fare questa intervista Pinuccio E qui abbracciamoci dai Qui siamo all'hotel Falesia Un posto molto bello A Piombino Hai detto queste cose importantissime No dobbiamo ancora cominciare Cominciamo Dopo che era finito Qui abbiamo grandi personaggi Perché con Gianna Martorella Non sai mai cosa ti aspetti È vero Perché è venuto anche per ti provo Adesso voglio andare a vedere Questo hotel Falesia Costella Poi c'è Ci sono tante persone Come mai all'hotel Falesia Cosa c'è qui all'hotel Falesia Mi piace L'hotel Falesia è bellissimo Perché noi facciamo tutto qua I nostri convegni Le nostre lezioni I nostri stagio Non ci sono ore Stagio Masterclass Ecco Facciamo le lezioni Ma è estrema E quindi è molto bello Poi Bel posto Le camera Stella Ancora stella È bellissimo È bellissimo È un posto fantastico Venite all'hotel Falesia Vero Pino Lignoso Io lo consiglio Lo consiglio Direttamente anche dalla Sardegna Per gli ascoltatori I telespettatori Perché siamo vicino al porto Siamo vicino al porto La nave arriva E stanno qua Bisogna approfittarne per due motivi Allora uno per venire qui all'hotel Falesia Ma poi Parliamo anche di giovani Perché all'hotel Falesia Perché c'è C'è Mili Carlucci C'è Mili Carlucci C'è Mili Carlucci C'è Mili Carlucci che dice Bene Siamo veramente molto contenta Di essere qui con voi Con Pino Lignoso E con tutte queste persone fantastiche Perché noi qui facciamo lezioni ragazzi Facciamo lezioni a tutti È un'accademia Accademia dei pazzi No È un'accademia seria È un'accademia seria È un'accademia seria Che va ballando con le stelle No No A ballando non ci va Non ci va ballando con le stelle Ma siamo qui con tutti i ragazzi Fantastici Talenti Favolosi Di attori Cantanti Sei là Insomma c'è di tutto Venite all'hotel Falesia E soprattutto alle muse Ma parliamo seriamente Parliamo delle muse Allora qui facciamo un applauso Da casa Fate l'applauso Gianna Martorello Non è facile avere un'intervista con lei Comunque io posso dire una cosa Io sono mezza sarda Addirittura Perché mia madre è di Ploaghe Aio Eia Ploaghe Sei in provincia di Sassari Quindi sangue sardo ce l'hai Sì sì Sono mezza Mezza sarda E mezza isolana Però con quello che dici Ti giochi una visita sicura da noi Devi venire a trovarci Prima o poi Molto una nostalgia Anche perché è un po' di tempo Che non vengo in Sardegna Quindi ho lavorato tanto Oltre insomma Essere stata in Sardegna Per affetto Per affetto Senti Ma senti Gianna Ma per i ragazzi Che ti stanno guardando E che vogliono entrare Nel mondo dello spettacolo Ci parli di le muse E se c'è la possibilità Anche per chi abita in Sardegna Di poter venire Non solo in Sardegna Chiaramente Perché grazie alla rete Andremo in tutta Italia E come si può fare Per avere informazioni Sul tuo Intanto cos'è le muse? Siamo un'associazione Culturale No Profit Che ha sede qui a Piombino Ormai da un anno Abbiamo cominciato A fare questi corsi Abbiamo iniziato così Per gioco Perché io lavorando Tanto in televisione Come saprai E quindi a contatto Con tanti personaggi Noti E comunque grandi professionisti Ho avuto questa idea Perché non portare a Piombino Qui la città Poi nella quale Sono tornata a vivere Perché sono nata qui Un po' di Una ventata Di professionalità In questo senso No? Quindi con Docenti di canto Di recitazione Eccetera Di ballo Che possano istruire Questi ragazzi E formarli Anche perché qui ci sono Dei bei talenti Molto molto belli Molto bravi Ragazzi capaci Eccetera Che qui c'è anche Una sorta di selezione O no? Sì C'è stata una selezione iniziale Per accedere ai corsi Non so di Marco Vito O di Fio Zanotti Perché abbiamo cominciato Con lui Quindi ci sono Qui si parla di Fio Zanotti Non so se I nomi sono importanti Oggi chi c'è? Chi c'è di là? Oggi c'è Luca Pitteri Luca Pitteri C'è Luca Pitteri Che è un grande maestro Di canto Abbiamo visto io canto Ad amici Eccetera E noi abbiamo cominciato Appunto con il maestro Zanotti Ci sono qui a Piombino Stavo dicendo Delle validissime scuole di canto Dalle quali abbiamo attinto I migliori allievi Di queste scuole Poi sono venuti a far parte Della classe Di canto Di musica Senti ma tu hai anche Qualche ora di relazione? Eh? O sei Organizzi solo O fai anche Ah di lezione? Sì Avevo capito di relazione Relazione sì Ah di lezione con loro? Sì Certo Fai lezione Fai lezione Dunque io In realtà sono Mimi ce ne sono Mimi? No No Sono una co-regista Perché con Fioretta Abbiamo messo su Lei la sua classe Ovviamente di recitazione Stiamo parlando di Fioretta Mari Fioretta Mari Anche lei Attrice Molto brava Che adesso lavora al Sistina A vacanze romane Adesso anzi È in tournée Perché hanno finito al Sistina E Fioretta Mari Che fa un corso Qui di lezione Di edizione E recitazione tecnica Però con lei Abbiamo messo su Uno spettacolo Su Amore e favole show Che sono le più belle favole Disney in realtà E io ho Diciamo Formato i ragazzi Li ho fatti provare Fino ad arrivare Al momento In cui arrivava Fioretta Perché loro vengono Una volta al mese I nostri docenti Fanno lezione Una volta al mese Uno o due giorni Sempre Più o meno Nei fine settimana Quindi sempre Nei sabato e domenica E quindi io Ho collaborato A far sì Che questi ragazzi Arrivassero Alla messa in scena In maniera Un pochino Più preparata Questa è la cosa Bella delle muse Noi abbiamo Tanti docenti Che vengono qui Ripeto Una volta al mese Quindi alla fine I nostri weekend Sono pieni Perché una volta di canto Una volta attori E una volta ballo Alla fine I ragazzi lavorano sempre Però ecco Ci piace formare E mettere in scena Quindi dare la possibilità A chi studia Poi di vedere Chiaro Di vedere Cosa succede No quindi Senti ma dici Dici Ma poi se c'è qualcuno Veramente bravo C'è qualche possibilità Attraverso Non so Le tue conoscenze Perché in Rai Tu praticamente C'è la tua fotografia All'ingresso C'è anche la tua fotografia Hai fatto la storia Anche della Rai Sei stata Quindi Perché io Lo dico Soprattutto per i giovani Perché magari Voi andate su Google E scrivete Gianna Martorella Dopodiché vedrete Che cos'è Con chi ha lavorato Perché quelli della mia età Anche un po' più giovani E i più grandi Ti conoscono E hanno passato Un sacco di sabati sera A ridere con te Però i giovani È importante che i giovani Sappiano quali sono I loro Quali sono le loro prospettive Quali sono i docenti Con cui possono Possono avere Delle collaborazioni In questo caso Tu Apprendo questa associazione Le Musa Qui Dai la possibilità Di condividere La tua esperienza Le tue conoscenze E quindi Un po' come È una Abbiamo un'apertura Sul mondo Tu aiuti E poi hai la possibilità Quanto mano Riesci a farvi vedere Non è una garanzia No certo Ci mancherà Però Diciamo che Per le persone meritevoli Ci sono delle Speranze Ma non di arrivare A fare il talent O ad essere Poi partecipi Di un programma Che magari Ha il tempo Di poco E poi finisce No Diciamo che Con la formazione Un pochino più Sostenuta Poi si può aspirare Perché senza formazione È fuoco di paglia Io non ci credo Ecco ci sono i talenti Arrivano e spariscono Io sono Anch'io sono stata Non sono scusa Come noi due Che rimaniamo Tanto tempo Io per esempio Ci sono i talenti I talenti naturali Il mio Parlo di me È stato È ancora Un talento naturale Cioè io sono nata In quella maniera Facendo le imitazioni Di allora Che non so Nella Valoni Mina eccetera Poi però Andando avanti Mi sono comunque Mi sono evoluta Sono andata avanti Ho cercato anche Di studiare Mi piaceva anche Fare teatro Quindi sono andata a scuola Ho fatto delle cose Bisogna studiare Perché altrimenti Rimani ferma Quello che dicevi tu prima Uno passa E va Non si nota neanche Attraverso magari un tag Dura pochissimo Ora tu dicevi Di me E io ho lavorato Molto negli anni 90 Quindi da stasera Mi butto con Sabani Ha ricominciato a due Con la Carrà TGX Quindi ho conosciuto Giorgio Panariello Eravamo insieme Abbiamo lavorato insieme Per cinque anni Da stasera mi butto Ad Acqua Calda Che era un programma Di Frassica e Faletti Su Re 2 Insomma abbiamo fatto Tante cose insieme Ma non solo con lui Con Pippo Baudo Con Raffaella Con Eter Parisi Giancarlo Magalli Chi più ne metta Ma non sono questi Diciamo Quello ti ha portato Quello ti ha portato E che magari E che magari Giocato Giocando una carta In un momento sbagliato Ti mette in condizione Di purtroppo Di essere fuori Cosa consigli Di non fare Allora intanto Una sola cosa Sì sì una Te la dico una Quella che per me è stata Forse la più importante A prescindere dal talento E dalle capacità singole E soggettive di ognuno È importante Mantenere i rapporti È importante curare E coltivare i rapporti E le relazioni Che nascono All'interno di un Di un sistema Di lavoro eccetera Il mio errore Che poi non è stato Un errore dettato Da chissà cosa Da superbia o altro Più che altro Da timidezza Spesso O da riservatezza E molti artisti Sono proprio così Sono artisti Hanno quella condizione Sono stata poco esibizionista Poco vista Mi mettevo poco in vista Per cui Spesso mi perdevo Delle occasioni importanti Quindi invece Sarebbe opportuno Quando lavori Con un team di persone Con uno staff Seguire Cioè essere presenti A costo di essere Non dico invadenti Ma farsi vedere Perché le occasioni Nascono Ad una cena In un salotto In un momento Non di lavoro Ma extra Che può essere Proprio Una cosa conviviale Magari in quel momento Tu sei lì E mi è capitato Quando lavoravo Da Paolo Limiti Che è nata Una cosa molto carina Anche un'imitazione Che mai avrei pensato Di fare Che era quella di Justin Eh sì Justin Mater Ok All right E allora è nato Durante una serata Con lui Perché io non pensavo Di far vedere A Paolo Che sono timida Che io sapevo Fare imitazioni Di Justin Ma mentre Avevamo lì a cena Io ho fatto imitazione E Paolo Ok È questo Che devi fare domani Domani Come domani Sì sì domani Si feste da Meryl Quindi voglio dire Poi magari Se tu non partecipi a queste cose Tu che hai un valore Pensi Rimani a casa Chi c'era in quel momento Coglie Allora a questi ragazzi Io dico Cercate di Essere presenti Anche questa formazione Sì per me Sì questo è importante Le pubbliche relazioni Vanno coltivate Come i rapporti interpersonali Va tutto coltivato E mantenuto Non si può Non lasciare Al caso Vabbè Tanto io sono brava Poi mi chiamano Questo è un altro errore Ma che io ho fatto Ma non perché Ero chissà chi Perché mi scocciava Prende il telefono E dire io sono qui Ora non lavoro Che si può Quindi capito Curare Oltretutto Avere della formazione Anche da parte vostra In questo caso tua Tu dicevi prima Che negli anni 90 Eri forte E lo eri realmente Stiamo parlando Ci troviamo adesso nel 2016 Quindi hai visto trasformare Anche il mondo dello spettacolo E hai visto cambiare tante cose Quindi riuscire ad avere Delle informazioni Anche da chi È storia Secondo me questi ragazzi Non per essere Insomma presuntosa Ma questi ragazzi Hanno Delle belle Ecco insieme a me Come ho detto Questi nomi Che ti ho fatto prima Luca Pitteri E lo stesso Marco Vito Che è giovane Ma è molto capace Molto in gamba Gio Di Tonno Che sarà con noi Per un corso Di musical Teatro musical Da maggio Insomma Sono tutti personaggi Che possono arricchire In tutti i modi Questi ragazzi Non solo da un punto di vista Tecnico Certo Senti ma Adesso Io dico Comunque è cambiato Il mondo dello spettacolo La televisione È cambiato tutto Quindi Io stessa Che guardavo tutte le trasmissioni Adesso la televisione Ma cosa c'è Mi dimentico di accenderla Senti Ma parlando di Le Muse Adesso da quanto tempo L'associazione è operativa? L'associazione è operativa Diciamo Operativa come associazione È da aprile Mi sembra Quindi è una realtà È una realtà Dillo Dillo anche forte Dillo Ah Piero Ah c'è Piero Moriconi Il nostro insegnante di danza Una mia musa Che adesso vi presento È operativa Diciamo Da gennaio Come corsi Mentre da aprile Abbiamo aperto Questa associazione Perché abbiamo fatto Le prime master class Però i corsi Sono partiti Proprio da gennaio Del 2014 Ok Senti Per chi ti sta guardando 15 15 Va bene Comunque è recente Senti Per chi ti sta guardando E volesse avvicinarsi Diamo qualche indicazione Qualche contatto Intanto diamo una mail La mail è Scrivete Segreteria.giannamartorellachiocciolagmail.com Una Poi ce n'abbiamo un'altra Nel caso Ma è l'associazione Lemuse Chiocciolagmail.com Poi abbiamo un sito Che è www Associazionelemuse.org Codice fiscale No aspetta No quello non lo diciamo Avete la pagina Facebook Abbiamo una pagina Facebook Comunque allora la mia Come Gianna Martorella Sono tre profili Abbastanza cool Mie pieni di amici E poi abbiamo L'associazione Lemuse Spettacolo Piombino Che è un gruppo aperto Però molto interessante Perché lì si pubblica Continuamente Tutto quello che accade Tutto quello che... Beh dai Siete presenti dappertutto È facile raggiungervi Una volta queste cose Non si dicevano Una volta si diceva Per arrivare a un artista Dovevi passare Che strada Adesso invece È molto più semplice Sì 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 Tramite queste cose Si riesce a arrivare Più velocemente Senti io però Adesso vorrei Adesso abbiamo fatto Un po' l'istituzionale Adesso però vorrei Un'informazione Tu quando hai conosciuto Raffaella Carrà Lei Che impressione ti ha fatto Ti ha fatto proprio Lei a me? Sì Intanto non l'ho riconosciuta Addirittura Perché noi eravamo Stati presi da ballandi Come gruppo Per lavorare con lei Ricomincio da due Quindi la prima riunione L'abbiamo fatta In Viale Mazzini Tutti i ragazzi E lei non doveva essere presente Quel giorno Invece è arrivata a sorpresa Ma è arrivata E ha fatto talmente una sorpresa Che io ho detto Ma Questa chi è? Ma chi è? Perché è arrivata E non era bionda Ma non è perché Lei non era bionda allora Lei non è bionda No Ha colore di capelli Molto più Più scuro Però era Irriconoscibile Al momento Poi insomma I capelli crespi Quindi noi la conosciamo Con il caschetto biondo Liscio Per cui non l'ho riconosciuta Al momento Poi è stato Per me Per quanto riguarda me Un bellissimo rapporto Raffa Cioè ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Mi è piaciuta Tu già la imitavi quindi? No No Ecco come ti è nata la Non la imitavo Perché sapevo Che la faceva Gianfranco D'Angelo E io quando vedo Un personaggio imitato Da un altro Automaticamente Ma è un uomo Comunque Gianfranco D'Angelo Appunto E poi era una caricatura Non c'era E mi è venuta Perché Con la frequentazione Spesso Io imito Quando ho il contatto Diretto con l'artista No Come sta succedendo adesso Con Fioretta Che fra un po' Non mi dire Non mi dire Fra un po' Fra un po' Non uscirà con questa imitazione Solo su tutte parole Tu quindi Come facci? Salutiamola Fioretta Salutiamola Fioretta ciao Ma non è uguale Ma no Non ho fatto niente Sì è uguale È incredibile Ma Io vengo a Piombino A Piombino ragazzi E tu sei pieno lignoso Bravo Bravo È incredibile Ma È un uomo bravissimo Fatelo lavorare Perché ha bisogno Di essere visto Brava E anche di essere salvato Dighilo Come fa lei Perché lei salva Il sacco di gente No è fantastico Fioretta è un mondo Sì ma dice che Quando si arriva A una certa età Tipo Fioretta Tipo Fioretta Che ha già un'età Vabbè È una battuta Quando si diventa grandi Poi nasce questa benevolenza Nei confronti Dei più giovani E questa volontà Di voler dare Più che ricevere Vero? Quando nasce Quando si è in pace Perché Fioretta Avendo adesso 83 anni Mi sembra Parliamo di queste cose Poi non è Non è vero Ciao Fioretta Mi sono vendicato Perché? Perché tu devi sapere Quando ho fatto il backstage Ad Act Italy Lei ha pubblicamente Mi ha mandato a quel paese Pubblicamente Perché? Perché mi sono messo a ridere Durante una sua affermazione In diretta E mi ha massacrato Ah sì? Sì 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 Abbiamo riso come matti Adesso mi sono vendicato Così impari Fioretta Comunque Stavi dicendo che si dà Quando Quando soprattutto Quando si è Tranquillo Scusate un attimo Devo chiedervi Solo una cortesia Da là perché state facendo ombra Anche lei da un po' Che fa ombra sul viso suo Ah Eh sì Guarda come è rinata Rifacciamo da capo Cosa? Dopo lo devo alzare io di luminosità Ah Rifacciamo dai Cosa? Tutto? No Adesso com'è? Beh lo alzo No 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 Rifacciamo da questo pezzo Tanto dopo quello di Fioretta Mario Io taglio il pezzo Lo manda lei Mica lo manda in onda Capito Fioretta? Dopo devi vedere la registrazione Allora Riattacchiamo con Tanto non tagliamo niente Ma andiamo in onda così com'è Allora Dicevi che bisogna dare Non bisogna Si sente le necessità di dare Questa cosa Di dover dare quando Sei tranquilla Sei Hai risolto tutti i tuoi problemi Nel senso Io parlo per me Cioè io mi sento gratificata ora Da questo rapporto con i ragazzi Non sono frustrata Da un qualcosa Che non ho potuto ottenere Io per quanto mi riguarda Quello che volevo L'ho ottenuto Se avessi voluto andare oltre Forse avrei dovuto impegnarmi In un altro modo Ma hai fatto tutto Ma hai fatto tutto Hai fatto tutto Con il suo viso artistico Voglio dire Tu sei una donna di successo Un'attrice di successo Secondo me a un certo punto Quando uno arriva là in alto Senta anche l'esigenza Di stendere un braccio E dire Vedo tante ragazze Tanti ragazzi Che come me hanno fatto Fatica E mi sento di dare Questo tipo Magari come può essere accaduto Con voi Tu hai avuto un mentore Magari Certo All'inizio Pippo Baudo Pippo Baudo è stato Il mio Diciamo Padrino Non perché siciliano Ma perché proprio È una persona Che mi ha Mi ha curato Come un padre Serie Integgeri Ma Pippo Baudo Io la conosco Perché lo conosco bene Perché Serissimo Serissimo La persona Veramente Io avevo 20 anni Quando ho conosciuto Baudo Perché In Puglia Io vivevo a Taranto E facciamo il Cantapuglia Ogni anno E lui era il presentatore Di questo Cantapuglia Che poi andava in giro In tutta la Puglia Che lui quando vede i talenti È molto attratto Lui quando vede uno È entusiasmato Ma soprattutto Io ho visto Una presentazione Sua Nei tuoi confronti Che è stata bellissima Sì c'è su Google E lui si vede Che io Perché lo conosco L'ho conosciuto tre anni Sono amico della figlia Sono cresciuto Con la figlia Con Tiziana Sì Che saluto Ciao Tiziana Ciao Tiziana Baudo E quindi lui È uno che non va Per Per Con lui Se vede la qualità Se vede Se sente La dote Il dono Lui Sì sì Lui aveva capito subito Che poteva Nascere poi qualcosa Salutiamolo Pippo Ciao Pippo Ciao Pippo No io li voglio molto bene Pippo Baudo Io da domani mi chiamo Pippo Lignuso Pippo Lignuso P è uguale Pippo Lignuso Così magari mi porta bene Magari mi porti bene tu No vabbè Diciamo che io ho conosciuto Baudo E per molto tempo Ho lavorato con lui Sia nelle piazze In Puglia E poi ho fatto Domenichain con lui Quell'anno Sì io lo ricordo E lui veramente Era un mio sostenitore Il primo sostenitore Molto molto Forte Beh all'epoca All'epoca C'era I personaggi importanti Nel 83 C'era Lagoggi Come imitatrice Ancora molto Cioè in auge In quel periodo E poi c'era anche Alfredo Papa Come imitatori Era molto bravo anche lui Però un pochino in ombra Sabani è venuto dopo Però è incredibile È incredibile come Le tue imitazioni Se uno non vede Il tuo viso Ma sente solo la voce La stessa Raffaella Carra Si confondeva Se tu facevi sentire Lei diceva Allora se io mi Mi viene un raffreddore Tanto c'è la martorella Ma poi sai qual è La cosa incredibile Che hai tu Gianna E che tu entri Nel personaggio In un millesimo di secondo Cioè tu hai la velocità Di trasformazione Della voce corporale Che è istantanea Che penso a quel personaggio Ci pensi già Io non ti conosco Io non so chi sei So che hai cancellato Con un gesto I sogni miei Basta pensarti Basta pensare Alla Iervolino E ti viene la voce Prova anche tu È una cosa semplice Basta che tu pensi Rosa Russo E viene questa voce Hai capito? Vai Senti tu te le fai Tutte le fai Ma adesso Faccio quelle che mi piacciono Tutte quelle Tutte quelle che ti piacciono Io so stufa Che barba che noia Che barba che noia Lui ride Ma che bellino Quando ride Angelo Aschei Ciao Svirulino 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 Mamma Qui stiamo parlando di storia Stiamo veramente parlando di storia Per i ragazzi Avere un insegnante come te E avere l'esperienza Di imitazione Ma è quello che ti chiedevo Perché non lo fai Perché sei tra i massimi esponenti oggi in Italia Ma sai perché? No io lo farò Ma probabilmente lo facciamo È che per fare le imitazioni Intanto deve avere un orecchio particolare No? Molto sensibile Poi insegnare a fare l'imitazione Non è facile Io lo so fare Ma come fai a spiegare? Puoi dare delle dritte Chiaro Se fai i patti pravo Puoi dire che c'è una Puoi dire Però capito? Mentre io penso Divento l'imitazione Certo certo Ma senti Gianna E dirlo allora Trasformatevi Ma senti Ma la dote La dote canora La dote canora Bisogna comunque averla O anche uno che non ha Per me Un imitatore Allora deve avere delle caratteristiche A Non si deve sentire assolutamente La inflessione dialettale Cioè un imitatore Che appara sendo un bovore Fa l'imitazione De Mina Sa? Che c'è C'è Provo? C'è già E vabbè Non faccio Abbiamo fatto l'accento romano Ma poteva essere qualsiasi accento Questo è tipo Frosinone Frosinone Terni Chi ti è venuto in mente Per fare l'accento di Terni? Nessuno Che vuoi tu Ogni dialetto Vabbè Diciamo nessuna Come si dice Nessun riferimento Puramente casuale Allora fai anche il siciliano Adesso Ma io mi 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 piace molto fare Senti Quello di lice Senti E' una cosa fattissima A fare queste cose Capito sai Questo di lice Oppure c'è il torinese E allora Siamo qui In Sardegna Queste Mettende Oppure possiamo fare Anche proprio Il sardo E che poi Cambiano le voci Perché se tu fai il sardo Ti viene una voce Che non è proprio limpida E una voce quasi arrabbiata A me Eia Oia quindi tu cambi un pochino l'impostazione mentre la voce nasale quella napoletana tu pensi a Napoli quindi devi adattare la voce a seconda dei dialetti e quindi non ci deve essere un'inflessione dialettale per me la voce deve essere pulita su questa base pulita tu costruisci se tu già ce l'hai un accento romano per mercato come fai a fare l'imitazione di quello che viene dato giù quindi deve essere pulita la voce poi se tu proprio puoi fare l'imitazione per me il non plus ultra è fare l'imitazione tutto parlato e cantato quindi se tu riesci a molti cantano ma non parlano molti parlano ma non cantano il massimo è tutto e due cioè fare poi l'imitazione di un imitatore è ancora più forte perché se tu imiti Loretta Goggi ma come lei imita eppure si può imitare perché Loretta Goggi fa così voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni e si rideva di noi che fretta c'era maledetta primavera sei troppo forte è tutto lei prende allora io faccio l'imitazione dell'imitazione dell'imitazione perché lei mentre canta imita ma non lo fa mica perché lei prende un po' di naso di vanoni quindi grandi osservatori vi sto facendo uno studio sì ma infatti non la finiamo più oggi questa intervista è un'intervista che senti ma tra i tanti personaggi che tu hai fatto anche ti ha fatto la corte? chi? chi? no dico chi ti ha fatto ma tu sei lo possiamo dire? sono che? sei sì sì single? single o non si può dire? sì adesso sì adesso sì ah sei single? sì adesso nel senso non ci penso io ma sono single nel senso che non che ho una figlia sono felicemente affiliata è una mamma quindi e poi tanti anni poi ho tutti questi figli è chiaro e questi sono figli per me è una cosa incredibile c'è proprio un affetto e sono tanti anche i ragazzi non è che sono due o tre che dici vabbè sono pochi quindi no sono tanti i ragazzi però sono molto attaccata a loro perché li sento abbiamo questo cordone che ci unisce che è quello dell'arte quindi il tuo auspicio qual è? quello di avere sempre più ragazzi che si avvicinano da un punto di vista di quantità mi interessa relativamente a me ma mi piacerebbe avere la qualità nel senso per me è importante la passione loro devono essere animati dalla stessa passione che ho avuto e che ho io per questo lavoro allora sì ci intendiamo non mi interessa qualcuno forse c'è anche che magari pensa di arrivare al facile successo però quello non può avere una vita e tu glielo dici chiaramente dici guarda senti questo atteggiamento non alimento questa cosa mentre alimento le speranze di chi vedo che veramente vorrebbe a tanta passione tanto entusiasmo partecipa a tante cose allora quello va premiato anche perché diciamo la verità queste lezioni tu le fai per una questione che si è legata a quello che abbiamo detto prima passione non è che lo fai perché hai necessità lavorative particolari di business quindi questo non può essere un business è no profit oltretutto a quel punto sei anche a differenza di chi magari è costretto a dare delle informazioni perché deve riempire dei corsi tu tu come altri tuoi colleghi mi piace fare questa cosa mi è piaciuto lo fate proprio per amore si può dire per amore è una parola che si può usare per forza per amore perché poi c'è un impegno per quanto mi riguarda è un impegno totale cioè io praticamente dalla mattina alla sera se non lavoro fisicamente penso a cosa fare per poter fare andare avanti per poter dare ai ragazzi delle opportunità diverse crescere è tutto un lavoro che però mi prende molto e mi piace perché poi c'è una gratificazione anche da parte loro quindi con questi docenti eccezionale ma senti invece i genitori di questi ragazzi come sono? come li vedi i genitori? li vedi che spingono molto i figli o vedi che in un certo senso li frenano? no 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 obiettivamente perché sai scusami chi intraprende il mondo dello spettacolo tendenzialmente i genitori dice ma no ma guarda e invece e invece no no diciamo che quelli i ragazzi che vengono qui hanno dei genitori alle spalle che li sostengono quindi se hanno una passione questi genitori fanno di tutto per far andare avanti i loro figli quindi sono genitori intelligenti sotto questo profilo perché in effetti amano i loro figli se uno vede che gli piace cantare e questo ragazzo vive per fare queste cose ecco diciamolo diciamo perché tanti tanti purtroppo è una realtà che esiste quando il figlio manifesta o la figlia manifesta volontà di lavorare nel mondo artistico ma no ma lascia ecco cosa vogliamo dire a te genitore che freni un po' tuo figlio cosa ti vogliamo dire a te cosa gli diciamo poi tu sei libero di scegliere quello che vuoi però noi persone di successo mondo dello spettacolo ti diciamo questo Marta a prescindere da quello che uno può avere come obiettivo perché secondo me l'obiettivo non è diventare famosi o essere una persona di successo l'obiettivo è quello di fare un qualcosa che ci piace cioè avere la passione poi se accade che viene il successo che arrivano i soldi che arriva ben venga ma tutto deve funzionare così perché se tu hai come obiettivo è quello di andare in televisione ad amici faccio per dire o X Factor e poi di diventare quello che magari tutti rincorrono quello è il grave errore quello è l'errore ma se tu vuoi fare arte vuoi fare musica vuoi cantare perché ti nasce da dentro che poi tu diventi famoso magari accadrà proprio perché questa passione che ti fa muovere tante altre cose il genitore che capisce questo dovrebbe agevolare certo poi magari ci troviamo in situazioni particolari ma il tuo caso il tuo caso è stato questo io ho iniziato a 5-6 anni a fare l'imitazione poi sono andata a scuola elementari medie fino alle medie era piuttosto latente questa mia voglia di fare l'imitazione poi sono andata a fare la ragioneria quindi il diploma eccetera ma durante gli anni scolastici cominciavo ancora di più a farmi venire fuori questa vocazione di imitazione facevo le imitazioni in classe eccetera poi mi sono diplomata anche bene e alla fine ho avuto la possibilità di andare a lavorare in banca e ci ho anche provato non in banca ma sono diventata una segretaria tanto per fare qualcosa di un avvocato ma quando io stessa mi sono vista a fare le come segretaria non era quello che c'era nel tuo animo ho avuto un shock mio padre in quel momento invece mi sosteneva per questo lavoro ma guarda questo è un bel lavoro quando poi ha capito che io piangevo volevo non è che volevo chissà fare volevi essere seguire quello che sono diventata con quel lavoro perché sentivo di dover fare qualcos'altro anche perché scusami io ho sentito che poi il periodo in cui tu lavoravi con questo avvocato è fallito l'avvocato perché dice che le cause gliele hai fatte perdita andavi in udienza e ridevano tutti come mai dice ma è vero o eri seria lì no eri più seria ma quando ci ho manco però è durata due giorni e va no comunque poi da quel momento in poi io mi sono detta no io non posso fare la persona seria cioè ho voglia di fare questo lavoro che non vuol dire non essere persona seria perché era difficile anche in quei tempi era difficile è molto impegnativo e quindi mi sono impegnata e mio padre mi ha sostenuto mi accompagnava su e giù io penso che nel 1980 parliamo di l'Enebre storia ho fatto una trasmissione con Enzo Tortora che si chiamava l'altra campana ed era una trasmissione dentro la quale poi sono c'erano delle rubriche e da queste rubriche sono venute fuori tante trasmissioni poi come lo stesso Amici e così via perché erano rubriche piccole dentro le quali c'era per esempio una che si chiamava Meglio Io allora si invitava uno del pubblico a dire chi era meglio di quel personaggio televisivo e io schissi per dire che ero meglio che ne so della Goggi e quindi ma non perché io non facevo mai niente mia sorella vai 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 allora sono andata lì ho conosciuto Enzo Tortora la sorella ho partecipato ho fatto l'imitazione di Mina e poi di Sbirulino e feci dei passaggi televisivi per cui da vent'anni diciamo in poi la mia vita è stata questa senti siamo in chiusura perché questa intervista che dura due giorni l'abbiamo noi è diciamo sono quattro chiacchiere in realtà più che più che un'intervista sono quattro chiacchiere con Gianna Martorella senti allora prima di chiudere però si 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 diglielo diglielo Fioretta Mari diglielo ma dici che fai anche corsi per radio per DJ radiofonici chi? si l'ho letto sul tuo sito rifacciamo questa la rifacciamo questa la tagliamo ho letto male questo no non ch'io ce l'hai nello scopo sociale però dove? dopo 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 ma dove l'hai letto? uno statuto? si come hai fatto a leggere io mi ho detto che prima di fare l'intervista mi sono documentato su tutto anche se io non sono giornalista perché faccio il comico di mestiere no ma io ho dei cosi radiofonici no però no possiamo farlo no se no non mi hai idea no perché perché volevo volevo questo aggancio volevo questo aggancio Gianna perché io inizio a breve adesso la presentiamo anzi lo facciamo dopo io a breve comincio un programma radiofonico nuovo che si chiama citofonare l'ignuso dopo magari tu mi fai qualche saluto che io che io lo lo mando in onda in onda? si adesso dopo tagliamo senti cosa stiamo dicendo? è forte e dunque no io in chiusura in chiusura allora la chiusura abbiamo già fatto chiusura allora salutiamo chiudiamo salutiamo dopo diciamo altre cose salutiamo chiudiamo allora vi aspettiamo dove? alle muse a Piombino ai nostri corsi se volete anche venire per questo possiamo dire per una diciamo uno stage può essere di informazione no se volete venire a vedere quello che accade non so durante il corso di di Fioretta Mari magari o di Marco Vito una lezione diciamo open siete benvenuti quindi fatemi sapere tramite mail ci iscrivete ci dite quello che sapete fare in quale disciplina siete abbiamo anche il corso di ballo Piero Moriconi che è un ballerino coreografo di Canale 5 dice che quando c'è questo dice che quando c'è il corso corusline con lui ah corusline dice che quando c'è quel corso lì c'è addirittura Millie Carlucci che inizia a fare o no? c'è Millie Carlucci fuori dalla porta c'è Millie e saluta tutti con le muse e i franca piro lì allora facciamo vedere velocemente le muse dai intanto una intanto di perché le muse perché le hai chiamate le muse ma veramente non sono stata io a chiamarlo abbiamo avuto un'idea collettiva con altre persone che facevano parte all'inizio di questa associazione e le muse perché ovviamente ci sono va bene va bene è chiaro così diciamo un nome molto vicino a quello che si fa ovviamente e le muse sono è un'associazione con io sono il presidente poi c'è un vicepresidente poi ci sono degli associati un'associata è la nostra la facciamo vedere che siamo in chiusura dai vieni lei è una nostra musa poi ne abbiamo tante altre abbiamo Barbara Noferi abbiamo ciao Franca ciao e abbiamo Franca poi abbiamo Barbara Noferi poi Raffaella e poi Luca Cardeti che è il nostro tecnico musicale quello con lui che fa insomma tutti gli eventi e poi Luca Carrara suggerisci dillo forte Luca Carrara diceva Carrara magari dice magari capiva un'altra cosa no Luca Carrara salutalo ciao Luca Carrara Carrara perché sono due Luca Cardeti e Luca Cardeti Carrara e poi insomma ci sono tanti amici che di volta in volta vengono ad aiutarci a così a darci una mano magari proprio perché organizziamo eventi lui non ce la fa più perché non ce la fa più va bene salutiamo Noella salutiamo io vi saluto vi ringrazio come saluto ringrazio Teppino e saluto tutti e a presto vi aspetto qui a Piombino alle Muse all'Hotel Falesia ciao Gianna Martorella buona la prima ciao buona sentia no